Buongiorno a tutti, stasera però prima di parlare del Covid mi concederete un minuto per farvi vedere un video e per togliermi un sassolino alla scarpa, quindi abbiate pazienza al secondo, ora vediamo il video. Abbiamo già perso 30 milioni di turisti, leggo oggi sul Corriere della Sera, complimenti a questi geni, alla De Luca, quell'altro genio, qual è l'altro sindaco che dice? Quello di Forte dei Marmi, potete giocare a tennis ma dovete essere residenti, complimenti, bravo sindaco di Forte dei Marmi, chi cazzo te lo paga lo stipendio? I tuoi residenti o tre mesi all'anno di ville, di persone che vengono là di tutto il mondo, che pagano il tuo stipendio e di quella città che altrimenti ritornerebbe a essere un posticino dove ci si vanno in tanti? Beh, allora, qualcosa che devo rispondere a Porro perché insomma, Porro, a me lo stipendio non me lo paga nessuno, hai capito? Perché io ci ho rinunciato fin dal primo giorno in cui sono stato eletto sindaco, te l'hai mai fatto in vita tua? Hai mai rinunciato ai soldi che ti hanno dato? Bene, io sono tre anni che non prendo una lira e che ho dato i soldi per creare gli elementi di sostegno per le famiglie dei miei concittadini in difficoltà, questo è tanto per partire, dopodiché te Corro continui a parlare secondo lo schema classico del populismo, parli senza contraddittorio, parli di cose con cui non sai e cerchi di offendere gli altri, pazzo? Io non sono pazzo, Porro, forse sono pazzo a fare il sindaco perché mi assumo delle responsabilità enormi, ma te certamente manco sai di cosa stiamo parlando perché evidentemente non conosci la problematica, allora ti faccio una breve lezione, Porro, io ho fatto un'ordinanza il 6 di maggio e siamo stato il primo, anzi il secondo comune della Toscana insieme al mio collega di Pontedera a riaprire i tennis in Toscana perché l'ordinanza numero 50, che te certamente non conosci per l'amor di Dio, del presidente della regione Toscana aveva riaperto l'attività sportiva ma non aveva parlato dei tennis, noi li abbiamo riaperti Porro assumendoci delle responsabilità e pochi giorni dopo il presidente della regione Toscana ha modificato la sua riaprendo anche al tennis, hai capito Porro?